E' relativo il suo sentire. Cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian domanda E' la limitazione del sentire che crea la percezione soggettiva? Scifo, ma certamente. Abbiamo detto che l'individuo che osserva una verità oggettiva per il fatto stesso di vedere quella verità oggettiva e non vedere tutta la verità oggettiva dà, attribuisce, una qualità di soggettività a quella realtà che diventa relativa, non è assoluta. Ora, come accade che l'individuo attribuisce a questa verità oggettiva una qualità relativa? Perché è relativo il suo sentire. Non ha un sentire assoluto, non è ancora riunito a Dio e quindi non conosce ancora tutta la verità e non ha tutti gli elementi per giudicare l'oggettività di quell'elemento oggettivo e quindi interpreta ciò che vede. Poiché il suo sentire lo induce a interpretare secondo le cognizioni che ha, fa sì che egli attribuisca una soggettività a quella porzione oggettiva della realtà. Quindi, come tu dicevi, i limiti del suo sentire sono quelli che creano, fanno scaturire la soggettività dell'interpretazione.